Benvenuti in Germania. Una applicazione per smartphone progettata per i rifugiati siriani che arrivano in Germania mira a rendere più facile il passaggio verso una nuova vita. Due aziende con sede a Dresda hanno sviluppato la app che dà informazione agli immigrati appena arrivati. Viola Klein, la sviluppatrice della app, dice che i rifugiati che ha incontrato attraverso il suo lavoro hanno domande urgenti. Chi posso chiamare quando ho bisogno di aiuto? Dove posso fare un corso di tedesco? Come si fa a chiedere asilo? E che cosa succede quando presento la domanda? Quali documenti devo portare? Quali domande mi faranno? Tutte cose molto importanti. Anche dove posso rivolgermi quando ho bisogno di ulteriori informazioni. L'applicazione fornisce informazioni su dove fare domanda d'asilo, quali documenti portare, a chi rivolgersi in caso di emergenza, come iscriversi a un corso di tedesco, ma anche quali sono le leggi tedesche più basilari, dove trovare cibo e molto altro ancora. Talvolta le informazioni sul web non sono molto chiare. L'applicazione è molto buona, contiene un sacco di informazioni utili che è importante conoscere per noi rifugiati che arriviamo qui in Germania dalla Siria. Le leggi qui sono molto diverse e questa app contiene informazioni che ci aiutano nella vita quotidiana. La applicazione è disponibile in tedesco, ma anche in arabo e in inglese.